Bentornati amici di Geek Family Official sui nostri canali! Ultimamente sto giocando a un gioco di ruolo con i miei amici che mi sta prendendo un sacco. Si tratta di Urban Eros. Papà mi ha spiegato le regole e stiamo sviluppando i nostri superpoteri, ancora indecisi se essere supereroi o supercattivi. Ma oggi non voglio parlarvi di Urban Eros, ma di Xenoscape, un nuovo progetto che potete trovare su Kickstarter. L'autore è sempre lo stesso però, Alessandro Rivaroli e Latina Hat Games. Ma prima di esplorare strani mondi alieni con Xenoscape, sigla! Xenoscape, di cui trovate il link qui sotto nella descrizione, è un gioco di ruolo davvero particolare, più porta su un pianeta alieno. Materia, un tempo colonia dell'impero umano, di cui ora è svanito praticamente qualsiasi ricordo, abitato da strane razze che desiderano solo sopravvivere e sono risposte a tutto per riuscirci. Importante di sottolineare come alla fine della campagna i manuali saranno disponibili sia in inglese che in italiano. Le razze o specie senzienti giocabili sono sei. Abbiamo l'artropoidi, insetti dalle dimensioni umane, che hanno sviluppato una società alveare, gli arbusti, piante talmente evolute grazie a ingegneria genetica e sostanze sperimentali da trasformarsi in esseri dotati di una coscienza propria, i terribili squamati, rettili tribali dall'aspetto umanoide, freddi e calcolatori megasuit, piccoli androidi di un tempo utilizzato dagli umani per compiti più disparati, che ora vagano da soli sulla superficie di materia, privi di uno scopo preciso, i necrocordi chips, questi sono strani. Si tratta infatti di essere diversi specie infettati da un virus sconosciuto che ne prende il controllo e può passare di ospite in ospite quando esaurisce le risorse del primo. E poi per ultimi i cloni, la cosa più vicina a un essere umano che potrete trovare su materia, crescono dentro capsule sottorranee e laboratori segreti e di tanto in tanto uno si attiva e inizia la sua missione di colonizzazione del pianeta. Potrete scegliere quella che più piace da giocare, certo poi il narratore e la sessione dovrà conciliare nella storia la presenza di specie differenti, ma anche in Dungeons & Dragons ci sono parti di umani, nani e elfi che tutti insieme vivono, più o meno, pacificamente le loro avventure e sono sicura che l'odio dei nani per gli elfi è parecchio, o più grande di quello per un arbusto o per un rettiliano. Le regole sono giocabili e originali come le razze. Infatti questo è un gioco di ruolo in cui non si lanciano i dadi. Assurdo ma è così, credetemi. I personaggi giocanti non lanciano i dadi, l'unico che li lancia è il narratore. Tutto il gioco regge su tre caratteristiche, corpo, riflessi e mente. Dalla combinazione di queste tre caratteristiche vengono fuori tre sistemi specifici che sono il sistema immunitario, dato dalla somma di corpo e mente, il sistema energetico, dato dalla somma di corpo e riflessi, e il sistema nervoso, dato dalla somma di riflessi e mente. Grazie alle tre caratteristiche e ai tre sistemi generati dalla loro combinazione dovremo cercare di sopravvivere. I tre sistemi ci forniranno una riserva di punti che via via potremo andare ad utilizzare, scalando, per potenziare le azioni che andremo a compiere per sopravvivere. Le azioni e gli eventi nel gioco vengono infatti gestiti con una serie di prove contrapposte. Da una parte le nostre abilità e dall'altra il livello di difficoltà da eguagliare o superare. Potremo però potenziare l'abilità utilizzando i punti contenuti nei sistemi. Dobbiamo ad esempio compiere un attacco ma è risultato troppo basso? Potremo scalare un tot di punti dal sistema energetico e sommarli al valore di attacco. Dobbiamo resistere ad un veleno rilasciato da un fungo tossico? Potremo decidere che sia necessario per sopravvivere impiegare un tot di punti al nostro sistema immunitario per mitigare o annullare del tutto gli effetti del veleno. La cosa subdola che si sono inventati alla Teen Earth Games però è che il giocatore non conoscerà mai qual è il suo valore necessario per sopravvivere, il livello di difficoltà e dovrà cercare di gestire al meglio le sue risorse per sopravvivere. Attenzione! La gestione delle risorse è fondamentale. Se infatti uno dei sistemi raggiunge lo zero e si svuota completamente il nostro personaggio sverrà. E se tutti e tre raggiungono lo zero beh allora siamo morti e c'è una sopravvivenza su materia. Ma come vi ho detto qualcuno che lancia i dati c'è ed è il narratore. Quando nelle sfide che il pianeta materia ci sottoporrà sta presente un fattore aleatorio allora il narratore lancerà uno o più dadi per andare a simulare la casualità dell'elemento sconosciuto che stiamo affrontando. Vi sparo un paio di considerazioni su questo sistema di gioco. Allora, innanzitutto lasciando il tiro di dadi solo al narratore si evita che questo possa barare visto che conosci i livelli di difficoltà delle prove e quanto un giocatore andrà a investire in punti da uno dei suoi sistemi. La seconda considerazione è che alcuni potrebbero pensare che dopo un po' che si gioca si riesca a intuire quelli che sono i livelli di difficoltà di certe azioni e quindi investire sempre più il giusto numero di punti a un sistema e che questo rovini il gioco. Ma non è così. Infatti è normale dopo un po' che si vive in un ambiente se affrontano prove via via simili accumulare esperienze e ottimizzare per così dire la propria risposta alla sfida. Ma lasciando il lancio del dado al narratore in determinate situazioni si avrà quel pizzico di imprevedibilità che una nuova sfida dovrebbe avere e il gioco si manterrà quindi equilibrato e stimolante. In Xenoscape non si passa di livello esperienza come nei classici giochi di ruolo. Niente paura però. Sono presenti due livelli specifici. Il livello specie e il livello cammino. Insieme questi due definiscono il fattore evolutivo del personaggio e condizioneranno la crescita o meglio l'evoluzione del nostro personaggio. Abbiamo giocato l'avventura introduttiva presente nel quick start che la T-Net Games ci ha gentilmente inviato e devo dire che si sentiva tantissimo l'atmosfera. Il fatto che ci fosse da esplorare un ambiente così ostile unito alle risorse dei sistemi che via via si esaurivano ha creato un'atmosfera quasi opprimente. L'ho sentita tantissimo. Mi veniva voglia di evitare i combattimenti se non per cercare risorse fondamentali. E credetemi, io che in genere evito i combattimenti è una cosa mai vista prima. Il design del manuale e le illustrazioni coloriempono sono da urlo. Rispecchiano in pieno lo stile trasmesso all'ambientazione e sono di una qualità assurda. Complimenti a Antonio De Luga, al quadro studio e a tutti gli artisti coinvolti. Mi piace disegnare e spero un giorno di essere brava quanto vuoi. Antonio, mio papà, ti segue da sempre sui social. Mi ha fatto vedere i tuoi lavori e mamma mia che belli. Bravissimo. Mio papà adora anche le piccole citazioni che si trovano sparse nel manuale, che raccontano frammenti di cultura aliena e forniscono conoscenze in più sull'ambientazione e le varie specie. Li trova, parole sue, una piccola chicca niente male. Non posso che sinceramente consigliarvi di scoprire Xenoscape della T-Net Games. La cura dei dettagli credo sia altissima, sia per la creazione dei manuali che per le regole. Mi sento in dovere di sottolineare che per la realizzazione delle specie e delle ambientazioni sono stati coinvolti consulenti come naturalisti, antropologi e biologi. Questo per farvi capire quanta cura è stata messa per rendere reale l'esperienza che il gioco mira a farvi vivere. Andate su Kickstarter e sui loro gruppi social per scoprire il progetto e pure domande. Li trovate nella descrizione del video. Naturalmente, per domande, impressioni, suggerimenti su come sopravvivere su un mondo alieno e altro ancora, potete anche rivolgervi a noi. Ciao da Gaia! Ci vediamo tutti su Materia! Sarete un'utile risorsa quando il mio necrocordi chips avrà bisogno di un nuovo corpo da infettare per sopravvivere. Ciao!